Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In Fipili a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, un chilometro invece in direzione Firenze. Passiamo sulla 1 dove si segnalano possibili disagi tra Firenze Sud e Firenze Scandicci a causa di lavori in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Impruneta, Greve e Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla regionale Due Cassia si ricorda che fino al termine dei lavori rimarrà momentaneamente chiuso il tratto tra Poggio Estriano e Castiglione d'Orcia. Uno sguarda la viabilità della città di Firenze via Zara e momentaneamente chiusa a causa di materiale in carreggiata con blocco temporaneo della circolazione. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!